A Lentini fino ad oggi sono numerosi cittadini che ci segnalano la pessima gestione da parte del comune di Lentini dei buoni spesa destinati alle famiglie bisognose. Ancora ci sono nuclei familiari che sono in attesa di ricevere il primo buono spesa, mentre in tanti altri comuni sono stati rilasciati per due settimane e addirittura anche per un mese. Tanti comuni inoltre hanno affidato il recapito dei buoni spesa fino al domicilio degli aventi diritto tramite la protezione civile. A Lentini invece i cittadini che hanno diritto ai buoni spesa dovranno ritirarli presso l'ufficio tecnico di via Macello. Ieri inoltre ci hanno segnalato anche che nel secondo turno di consegna dei buoni spesa dall'8 aprile scorso a di un nucleo familiare composto da tre persone sono stati consegnati sette buoni spesa da 10 euro cada uno e nel contempo hanno annunciato anche che i fondi sono terminati per cui ne dovranno fare buon uso fino allo stanziamento dei nuovi fondi governativi.